Nuovo appello su chi l'ha visto dei genitori di Giulia di Sabatino, la 19enne di Tortoreto precipitato da un cavalcavia sull'A14 la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2015, giorno del suo compleanno. A oltre 5 anni dai fatti e dopo l'archiviazione la procura ha detto no alla riapertura delle indagini, chiesta dai genitori della ragazza convinti che si sia trattato di un omicidio. Ma per gli inquirenti resta un suicidio senza la necessità di disporre ulteriori indagini, oltre a quelle già fatte. Giulia quella sera ha chiesto il permesso in questo ristorante dove lei lavorava alle 6 del pomeriggio al titolare se poteva uscire la sera. Una ragazza che chiede il permesso per uscire non si può suicidare, può solo festeggiare nel bene o nel male. Noi andiamo avanti, siamo sempre più forti, Giulia non si è suicidata, c'è qualcosa sotto di marcio. Ringraziamo le 85 associazioni che ci stanno vicino, tutta l'Italia che ci sta vicina per la verità. Giulia era una ragazza molto felice con dei programmi ed è impossibile che si sia suicidata, bisogna arrivare alla verità. Bisogna mettere gli assassini in galera e andremo avanti sempre più forti per Giulia perché se lo merita. I genitori di Giulia chiedono che gli inquirenti tornino ad indagare sia sulle immagini registrate quella notte dalle telecamere installate su quel tratto di autostrada e sia su alcune testimonianze, in particolare quella di un camionista che ha raccontato di aver visto tre giovani, tra cui una ragazza, muoversi in quella zona quella notte di cinque anni fa. Noi dai fatti che abbiamo rilevato grazie anche al team dei tecnici che sono al fianco della famiglia, abbiamo visionato le telecamere proprio dell'autostrada e nulla fa comprendere che Giulia si sia suicidata. Ecco, noi aspichiamo che ci vengono date delle risposte perché questi genitori meritano di sapere la verità e non essendoci stato un processo restano tanti punti interrogativi.